Che traccia hai scelto per la prima prova dell'esame di maturità? Ho scelto l'ambito tecnico-scientifico, quindi il dibattito sulla clonazione. Come ti sei trovata? Difficoltà particolari? Come pensi che sia andata? Spero, spero bene. Comunque mi sono trovata facilitata in quanto è un campo che a me piace molto, cioè la medicina in generale mi è sempre piaciuta, quindi sono andata diciamo molto a razzo. Io ho scelto il saggio breve, la tipologia, il saggio letterario-artistico. Come ti è sembrata? Come è andata? Come pensi che sia andata? Speriamo che sia andata bene, ora non lo so, però su due piedi. Penso abbastanza bene comunque. Speriamo bene, era abbastanza semplice rispetto a quelle degli anni precedenti, secondo me. Che scelta hai fatto? Saggio breve, ambito artistico-letterario sulla solitudine. Pure io ho fatto il saggio breve, l'ambito è stato quello della creatività, è stato un saggio breve socio-economico. Ma così a bruciapelo direi semplice, però effettivamente non so come hanno trattato i miei compagni la tematica o le tematiche, speriamo bene insomma. Beh, abbastanza bene, forse mi è sembrato un po' troppo semplice, quindi spero sia andato bene. A compito consegnato, ho detto ho fatto un macello, ma oramai ho consegnato, quindi... Che cosa hai scelto, che traccia hai scelto? L'analisi del testo. Quindi sul giardino dei Finzi Contini, di Bassani? Sì. Come l'hai trovato? No, sembrava abbastanza semplice, è chiaro, più che altro. Voi siete tre studenti del liceo scientifico delfico, prima prova degli esami di maturità anche per voi. La tua scelta qual è stata? Io sono andato sull'analisi del testo perché mi è sembrata quella più semplice, quella diciamo in cui potevo scrivere più cose, mi trovavo più a mio agio, quindi ho fatto quello. Invece sul saggio breve perché appunto sembrava... cioè in quel momento ho avuto più idee su quell'argomento, quindi ho scelto appunto... Quale traccia? Di artistico letterario, quindi appunto si parlava della solitudine, quindi più o meno si poteva scrivere qualcosa. Saggio breve, ambito economico-sociale, il tema era la creatività, quindi mi sono trovata a mio agio, ho il tema, ho deciso di parlare di quello. La tipologia di saggio breve, ambito artistico, sulla solitudine, sull'importanza della solitudine e gli aspetti della solitudine. Come pensi che sia andata? Benissimo, era facilissima dai, domani arriva il bello. Domani la seconda prova, preoccupata? Abbastanza sì, abbiamo le tre classiche, noi dell'europeo e sì, diciamo che è una delle più temute. Purtroppo sì, si spera in un dieci, un dieci quindicesi. Grazie. Sì, ho temuto da sei anni, quindi... però andrà bene pure quella sicuramente. Domani affronterete la seconda prova, matematica per voi dello scientifico, sensazioni? Positiva, diciamo che devo fare il combito a quasi tutta la classe, quindi la vedo bene. Sei pronto? Sì, sono pronto, sono pronto. Diciamo che noi ci affidiamo tutti a lui, sì, quindi siamo abbastanza... Esattamente, confermo. Domani brutto, domani bruttissimo, bruttissimo. Intanto oggi è andata, una cosa alla volta, piano piano.